E' un pacco speciale quello che è partito dalla sede Menchetti di Cesa in Valdichiana in provincia di Arezzo destinato niente di meno che a Papa Francesco un augurio per la Santa Pasqua. Il box che è stato consegnato in Vaticano conteneva oltre alla classica colomba i prodotti della tradizione toscana pasquale, i ciambellini, la panina unta con rigatino e la panina con uvetta, protagoniste della tavola pasquale e i cantucci della linea Menchetti, un classico senza tempo tipico della nostra Toscana. Un invito speciale dunque che è stato recapitato direttamente in Vaticano insieme al libro sulla vita di Santi Menchetti una vita in un chicco di grano scritto da Lucia Bigozzi. E' stato proprio Marco Menchetti insieme al fratello Corrado a recapitare il pacco così speciale. Un omaggio da parte di tutta la nostra famiglia scrivono i due fratelli Siamo da tre generazioni fornai nel cuore della Toscana. I nostri prodotti sono fatti a mano con tutta la dedizione e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. La fede ci accompagna quotidianamente. E' stato un onore per noi far recapitare i prodotti a Papa Francesco. Grazie. Grazie. Grazie.